Che state facendo? Attendiamo che ci salvino. Volete prendermi in giro? Ma che cosa ti aspetti che facciamo? Siamo solo quattro... voglio dire tre... principesse strafichissime, due fenomeni da baracone, un'orchessa incinta e una vecchietta. Con permesso, la vecchietta deve passare. Ah! Mamma! Beh, non penserai sul serio di aver preso la bravura nella lotta da tuo padre, vero? Chiedo scusa, credo che ce ne sia ancora uno. Perché non vai a sdraiarti un po'? Bene, ragazze. D'ora in poi, le cose le sistemiamo noi da sole. signore e signori, il teatro molto, molto lontano al palazzurro e orgoglioso di presentare... Goditi la tua serata di fantasticheria teatrale, cittadino. Uè! Niente cibo o bevande del teatro, chiaro? ai vostri posti! dai! Piano! Scusa, che volevo fare bella figura davanti alla piccola. Eh? È la giornata dei figli con te al lavoro. Vieni qui, bellissima. Beh, lei ha il tuo stesso occhio. Chi l'avrebbe detto che un mostro come me meritasse una cosa speciale come te? è la giornata dei figli. Uccellini tutti qui, da quei rami dovete calare per me 5 hectare. Canto anch'io così. Oh, oh, ah 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 Il mi è venuto con il! Ah! Alla, 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 tutto! Eh! Ehi, come butta? OAK! Via di vera! Bene, allora, diamoci dentro! Forza, squadra dinamite! Credevo ci fossimo accordati sul nome squadra superganza! Se ricordo bene, era squadra favolosa! Io ho votato per squadrone lupo alfa. Va bene, va bene, va bene! D'ora in avanti saremo noti come squadra alfa superfavolosa ganza dinamite lupo! Ah, tu liba! Là c'è una ragazzina strana che ci sta fissando! Ah, non va! Prenditi cura del bebè! Manteniamo la calma! Moriremo tutti! Tutti dentro! Subito! Forza! Lavorate di muscoli, gente! Non abbiamo tempo! Andiamo! Svelte, signore! La mia scarpa! Le tratteremo finché potremo! Dove sono Shrek e Fiona? Questi nomi non mi suonano! Non suonano! Suggerisco a voi mostri di collaborare con il nuovo re di molto molto lontano! Solamente di una cosa tu sarai re, ossia degli stupidi! Uncino! Eccomi! Arrestati tu, biscottino! Comincia a cantare! Aaaaaaaaaah! Sensin! Papà! Amatemi ora! non puoi mentire perciò dimmi burattino dov'è shrek non so dove non è mi stai dicendo che non sai dov'è shrek non sarebbe impreciso presumere che non potrei esattamente non dire che sia o non sia quasi parzialmente inesatto sai allora dov'è al contrario è possibile più o meno che io non respinga del tutto l'idea che in nessun modo con qualunque dose di incertezza innegabilmente non so o non so dove non dovrebbe probabilmente essere sempre che lui non sia dove non è anche se non fosse dove sapevo che era basta shrek è andato a prelevare il nuovo erede sta riportando qui il nuovo erede un cino sbarazzati di questo nuovo re subito ma porta shrek da me ho qualcosa di speciale in mente per lui non appoccherai due trucchi oh mamma ora saprai come mi sono sentito oh no oh no templo alla pietà dal gatto e ciocchino delizioso ciao tesoro scusa il ritardo stai bene molto meglio ora che sei qui allora azzurro vuoi farmi togliere questi così la sistemiamo da orco a uomo sembra divertente però io ho un'idea migliore azzurro